Accampati qui al Circo Massimo da questa mattina, chi siete e cosa fate? Siamo il Movimento Sociale Europeo, siamo la militanza politica, siamo quelli che combattono questo sistema, siamo un presidio, un nuovo presidio che a Roma ad oltranza combatterà questa crisi, che vuole dire no alla crisi, che vuole dire no a questa Europa di banche, che vuole dire no a questa Europa fatta di finanza, siamo il popolo che combatte contro questa finanza, ma siamo allo stesso tempo quel popolo che dice che la militanza politica è ancora qualcosa di importante, perché noi siamo quella politica che ha sempre combattuto questo sistema e che non si vergogna di mettere le proprie bandiere, i propri simboli e la propria sigla. Che significa presidio a oltranza? Cosa farete? Noi saremo qui, fintanto non riceveremo delle delegazioni, per esempio, del Campitoio per quanto riguarda l'emergenza abitativa, fintanto non riceveremo delle rappresentanze del governo per quanto riguarda il lavoro, finché non riceveremo risposte per quanto riguarda l'Europa e tanto altro. Ma fate parte comunque del movimento dei forconi? No, noi non facciamo parte del movimento dei forconi perché non condividiamo la risposta che i forconi danno, ad esempio hanno parlato di Stato, di Carabinieri o di Governi nazionali, noi queste soluzioni, queste ricette non ci piacciono. Manifesterete anche voi mercoledì prossimo? Noi manifesteremo qua ad oltranza, qui ci saranno assemblee, conferenze, convegni, incontri e anche organizzazioni di blitz e mobilizzazioni. Di volta in volta questo presidio deciderà come e quando muoversi.